Altra rivoluzione per il Real Madrid, esce Varane. Dentro Sergio Ramos. Straordinario, nell'ultima parte della Champions League, la scorsa settimana, il Bayern di Monaco all'Allianz Arena, e poi quel gol che ha salvato il Real dalla sconfitta con l'Atletico. Entra anche Burgui, maglia numero 20, al posto di Yara Mendy. Entra Alvaro Medran, al posto di Sami Khedira. Dovrebbe essercene un altro. 2-2 nella Fiorentina. Intanto c'è un fuori programma con un tifoso che è entrato in campo vestito da Ronaldo. Si prende l'ovazione del pubblico di Varsavia e la rimprovero dell'arbitro e nulla più. Adesso però ovviamente dovrà uscire dal campo. In realtà vuole rimanere lì a stare sul calcio d'angolo della Fiorentina. Questa non l'avevamo mai vista. Abbiamo visto invasioni di campo, volevano abbracciare i giocatori. Anche al Mondiale è successo di recente nella tornea americana, nella Champions Challenge Cup che vi abbiamo offerto in esclusiva. C'è qualche tifoso. C'è qualche tifoso.